Grazie. Grazie. Per il mio periodo di università, in zona 1913 è stata istituita un'associazione debile per poter portare il contenimento del catedrale. Nel 1929 la catedrale è stata solenamente terminata in stile neobotico con la lavata grande. Tecnic a parte il più grande rosone delle nostre catedrali è un rosone di 11 metri di diametro e il rosone raffigura la Genesi. La creazione del mondo in sei giorni secondo la Bibbia è stata fatta in splendidi colori dai pittori. Invece nella meridionale, la lavata meridionale, l'anceto meridionale con la più grande vetrata con il croma di tutte le nostre catedrali è stato raffigurato il giudizio universale. Nella vicinanza ci è stata situata una cappella dove ci è stato sepolto il nostro santo patrono principale, che è diventato un luogo filosofo della catedrale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.